State indietro ragazzi! Tensione a Venezia tra la polizia e il corteo di studenti che manifestavano contro il piano del governo per la scuola. La manifestazione si è trasformata a un certo punto in una protesta contro il sindaco Luigi Brugnaro e gli studenti hanno provato a deviare dal percorso per appendere uno striscione dal ponte di Rialto. La polizia li ha fermati impedendo loro di passare mentre nella fantasiosa ricostruzione dei manifestanti ci sarebbero state delle cariche nei loro confronti. Un gruppo isolato di giovani si è inoltre reso protagonista di un'azione contro il McDonald's di Strada Nuova accusato di sfruttare gli studenti perché offre loro la possibilità di lavorare. L'assalto è a base di fumogeni e striscioni contro le multinazionali. sia uno strumento per arricchirci, per inserirci in una vita lavorativa degna con un lavoro che porti noi a sfrutturarci come persone.